Giuseppe Castaman, sindaco di Zermeghedo in provincia di Vicenza. Anche il suo comune ha adottato da alcuni mesi il cosiddetto e famoso ormai provvedimento Bitonci, provvedimento antisbandati. Come sta andando? Se la senti di fare un bilancio dopo qualche mese? Ma certo, mi la sento di fare un bilancio anche perché questo comune già prima aveva adottato vari provvedimenti. Questo è un comune di 1.400 abitanti, 1.600 posti di lavoro, più di 120 aziende e attività. ha una percentuale di immigrazione del 18% sulla popolazione, quindi molto significativa, prevalentemente indiana o di origine slava, chiamiamola così. Noi avevamo già adottato di provvedimenti per quanto riguarda soprattutto il controllo degli alloggi e il controllo anche dei clandestini, mobilitando il consorzio di vigili urbani che fa servizio in questo comune. Tra l'altro queste hanno già un permesso di monitoraggio anche delle persone in controllo anche alla scoperta anche dei clandestini che abbiamo segnalato alle autorità competenti a suo tempo. Questi episodi sono circa di un anno fa. Come hanno preso, reagito i suoi concittadini all'adozione di questo provvedimento? Comunque anche che voi avevate già adottato precedentemente dei provvedimenti di quel tipo. Ma diciamo che questo provvedimento ha messo delle norme un po' più certe, ha fatto, possiamo dire, riepilogo delle norme, perché poi nella prassi era già stato adottato di fatto. I concittadini chiedono ordine, sicurezza e questa è una risposta che ci eravamo già impegnati in campagna elettorale e pensiamo di averla mantenuta. Senta, casi concreti dove comunque grazie al provvedimento Bitonci o anche ai provvedimenti che avevate preso prima avete comunque risolto delle problematiche, avete comunque messo i puntini sulle I? Ma questo è uno di tanti comuni che gli immigrati adesso evitano, perché ci sono dei comuni facili per farsi registrare, qui abbiamo creato qualche problema in più. Questo controllo serve per mettere delle regole. Applichiamo le leggi dello Stato, non ne applichiamo un in più, però forse avere la fermezza nell'applicazione è una cosa che in Italia non capita spesso. Senta, qualche residenza non accettata, qualche clandestino mandato via? Qualche ospitalità anche non accettata, ce ne sono state di ospitalità non accettate, perché quando c'è un affollamento in certe abitazioni non è il caso di affollarla ancora di più. Sto proprio per questioni anche igieniche, anche per gli stessi residenti. Sto proprio per questioni, anche per gli stessi residenti.